Sì, oggi ho... perché andiamo a vedere io e da ieri pomeriggio che cerchiamo di e abbiamo mandato indipendentemente che noi siamo solini per merito e per merito tutto cuvolo come dicono gli altri quello che volete però se uno prima scusate anche voi no io non è cuvolo quello ecco la gamba qua e e e e e e Grazie.